Ciao a tutti, oggi prepareremo i bicchierini di mascarpone e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti. Gli ingredienti sono mascarpone, panna, cioccolato fondente, muesli, vanillina, zucchero, latte, due uovi intere e un tuorlo. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito posizionando la farfalla all'interno del nostro boccale, versiamo le uova, passiamo al tuorlo, lo zucchero e la vanillina. Facciamo montare il tutto per 6 minuti a velocità 4. Adesso andiamo a rimuovere la farfalla. Riposizioniamo il coperchio senza il misurino. andiamo ad azionare il bimbi per 6 minuti a velocità 3 e con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a mettere dal fuoco del coperchio il mascarpone. il nostro composto è pronto. Andiamo ora a riporlo in una ciotola e mettiamolo in frigo. Adesso andiamo a preparare la nostra salsa al cioccolato senza lavare il boccale aggiungiamo la panna, il latte e facciamo cuocere per 2 minuti a 90 gradi a velocità 1. Adesso aggiungiamo il cioccolato fondente. e aggiungiamo il bimbi per 3 minuti a velocità 2. La nostra salsa al cioccolato è pronta, andiamola a trasferire in una misura liquidi. Adesso andiamo a riempire la base dei nostri bicchierini. e li riporremo in frigo per 15 minuti per raffreddarsi. Dopo aver fatto raffreddare la nostra salsa di cioccolato andiamo a comporre i nostri bicchierini con la crema al mascarpone e il muesli. Andiamo a mettere la nostra salsa al cioccolato del muesli. Riposizioniamo i bicchierini per altri 15 minuti in frigorifero. Bicchierini mascarpone e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.